chi è quello di nuovo videovlog visto che so che vi piacciono tanto visto che oggi andiamo su Arequoaro al salè esattamente e quindi mi ha deciso di vloggare tra l'altro devo ancora montare e caricare quello del battesimo e quando riuscirò ad avere dieci minuti lo faremo vi faccio vedere Ale ciao amore adesso mangiamo il latte ti hai fatto vedere a tutti che hai il telefono vuoi dare il tuo numero di telefono aspetta aspetta che vi faccio una foto che fatica adesso vi faccio una foto e questa è la foto amore questo qua chiama papà chiedigli fra quanto arriva con le brioche chiamalo cos'è quello di no bu bu piccola perla ma cos'è in fronte abbiamo il latte amore vuoi il latte 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 si va bene adesso lo facciamo adesso te lo preparo un attimo ma te lo devo preparare prima vuoi chiama papà chiama papà chiedigli che la mamma è brutta e ti ha fatto piangere ma no adesso facciamo adesso la colazione l'ho preparata io perché io ho dato da mangiare al nostro figlio perché io ho dato da mangiare al nostro figlio io l'ho cambiato non si arrangia a mangiare io andiamo oggi andiamo anche lei e noi andiamo tu stai a casa stai a casa o vieni anche tu vengo, vengo anch'io sì, 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 sì no, 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 no sì, 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 sì seduta seduta ehi indira, calma, mettiti lì dai che devo ancora vestirmi, seduta vieni lì anche tu eh sì aiaiaia che male cosa ridi te? cosa ridi te? cosa se che te ridi? cosa ridi? cosa ridi pieno di bave? e smettila di tirare quella pipa lì in bocca bu bu chiamala bu 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 togli le bavaglie che sei più bello il senso bavaglia eccolo oh che bella maglietta bene siamo finalmente partiti sono le 11.02 arriveremo alle non lo so non lo so mezzogiorno no arriveremo a mezzogiorno oh oh i love you so but why i love you i never know oh i love you so but why i love you i never know oh i love you so eh 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 paura 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 di verdeva indira dai min indira dai dai vieni vieni amore vieni dai vieni sì vieni 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 qua indira fa il giro fa il giro ora poi il tiro vieni vieni amore dai vieni opa brava cosa fai lì cosa fai lì eh vieni 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 Cos' you're a good girl and you know it You act so different around me Cos' you're a good girl and you know it I know exactly who you could be So just hold on, we're going home So just hold on, we're going home It's hard to do these things alone So just hold on, we're going home E adesso portiamo Ale, Ale Giostra per la prima volta Facciamo un falangeretto da qualche parte Ovvio, adesso mangiamo fuori 50 euro Ovvio Oh, this is incredible Yuhuuu Yuhuuu Oh, I love you so But why I love you, I'll never know E niente, stiamo aspettando Manu con la macchina Perché è iniziato a fiore, infatti ci si è allavati Molto, molto bene Bene, siamo a casa, lavati, profumati, messi i pigiamini Mentre messe i pigiamini Eh, Ale, chi c'è là? Messo il pigiamino Adesso andiamo a fare i nini Le nini ne ha le nini anche Però Ciao 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 Ciao